rieccoci allora adesso facciamo un esperimento chiudiamo gli occhi e anziché chiudiamo gli occhi e immaginiamo che anziché Inter-Frosinone stasera fosse stata Juventus-Frosinone partita dove al Frosinone vanno fatti complimenti, ora scendono più nei dettagli è partita decise da un gol della domenica, dal classico gol della domenica e da un rigore maturato da un'azione partita dalla scivolata di un difensore del Frosinone per il resto, Frosinone che ha fatto gioco, ha preso un palo Sommer ha fatto una gran parata, anzi no, Cesni ha fatto una gran parata perché è in medesimia, facciamola tutta la cosa cosa voglio dire con questo? allora, io so tutt'altro che smenuendo la vittoria dell'Inter la vittoria dell'Inter stasera è da squadra cinica e vincente è da squadra che ha purtroppo per noi tanti elementi in grado di far gol da Di Marco a Cialanoglu, da Barella a Dunfris, da Lautaro a Turam Financo Darmian, Bastoni hanno fatto gol in passato, Acerbi ha fatto gol ora, chiudiamo gli occhi e immaginiamo che a vincere questa partita con un gol della domenica e un rigore partito da una scivolata di quelli del Frosinone immaginiamo fosse stata la Juventus a vincere una partita così non abbiamo gioco in Europa come faremo Allegri out siamo inguardabili siamo l'anticalcio chiediamo scusa al Frosinone Milano invece dopo il 2-0 hanno cominciato a cantare a sostenere la squadra come non ci fosse un domani perché oggi l'Inter ha sfruttato al massimo ciò che gli è capitato per carità c'è stata una gran parata di Turati sullo 0-0 parata poi compensata dal gol preso da Casasugua praticamente di Di Marco cosa mi dice questa partita? mi dice che come ho già detto questi ti possono fare gol in qualsiasi modo e purtroppo si è visto stanno bene sono col morale a mille e forse è un bene incontrarli dopo la sosta perché magari si azzera tutto perché magari si azzera tutto tutto dal punto di vista mentale, morale, eccetera eccetera al Frosinone vanno solo che fatti i complimenti ha interpretato la partita benissimo e adesso vi confesso una roba forse in passato qualcuno di voi mi ha chiesto ma tu nel caso dopo Allegri chi vorresti? a me farebbe piacere vedere Di Francesco se proprio dobbiamo prendere un allenatore con quelle caratteristiche mi piacerebbe avere Di Francesco che a Roma fece molto bene ricordo a Roma fece molto bene chi è venuto dopo al netto di quella della conference della finale Europa League non è che in campionato ha fatto meglio chi è venuto dopo di Francesco signori a me è sempre piaciuto un allenatore una persona seria non montata che non si atteggia a filosofo di sto cazzo e che fa giocare bene le sue squadre d'accordo poi è sempre valido il mio discorso che fino a quando hai una squadra dove praticamente non hai obiettivi è facile fare questo gioco le dai le prendi senza tanti complimenti senza pensieri tanto ne hai almeno 6 o 7 peggio di te quindi è facile inculcare questa mentalità diciamo per esempio Di Francesco la Sampdoria ha fatto una brutta fine perché era una squadra che doveva salvarsi e e lì la filosofia spiccia purtroppo va a farsi benedire però se proprio dobbiamo cambiare l'allenatore mi piacerebbe vedere di Francesco sulla panchina della Juve sono sincero mi è molto piaciuto come ha giocato il Frosinone forse se fosse entrato il palo di Kedira forse fino alla fine avremmo visto un'altra partita perché secondo me gli è andata bene perché gli è andata bene Simone ha fatto i cambi troppo presto per come la vedo io e fosse entrato il gol fosse entrato il palo di Kedira secondo me l'avrebbero non so se la vinceva fino alla fine sta partita l'Inter e soprattutto la Juve vista ieri contro il Frosinone di oggi forse non l'avrebbe vinta la partita forse non l'avrebbe vinta la partita ma semplicemente perché l'Inter è più forte non peraltro peccato l'infortunio di Mazzitelli stava giocando molto bene devo dire Barencea è una partita sufficiente mi è piaciuto molto il loro difensore Monterisi che è di Trani a pochi chilometri da casa mia mi è molto piaciuto Sule Sule adesso vi dico una roba questo già si sente un fenomeno per due partite buone che ha fatto e non va bene non mi piace non mi piace questo atteggiamento perché molte volte poteva scaricare è partito in dribbling poteva scaricare sul compagno ma si è intestardito per arrivare lui a conclusione ha perso palla e da quelle palle perso partite ripartenze dell'Inter e l'Inter è letale in quelle ripartenze non mi piace in una squadra come la Juventus queste cose non le puoi fare al Frosinone non hai quasi nulla da perdere chi se ne frega ma nella Juve sono letali quegli errori là sono letali alla Juve devi sentire la perfezione quindi secondo me questo qui lo si è battenzato fin troppo presto come un fuoriclasse aspettiamo ragazzi magari viene fuori ma aspettiamo perché al momento le stimmate del nuovo di bala io ancora non le vedo perché già l'originale francamente aveva i suoi limiti già l'originale aveva i suoi limiti aspettiamo prima di definire un nuovo di bala questo qua aspettiamo stiamo calmi perché lo vedo ancora molto fumoso come giocatore attenzione attenzione mi piacerebbe vedere un po' più in campo Caio George perché in Brasile si diceva un gran bene di questo ragazzo poi ha avuto sti infortuni al tendine d'Achille che è una bruttissima roba o al tendine rotuli o forse mi sbaglio al tendine rotuli o attenzione no è una bruttissima roba per davvero e niente questa è la mia analisi della partita di oggi perché ho aperto quella polemica perché sono sicuro che non c'è un solo interista non c'è un solo interista che oggi si lascia andare eh ma abbiamo giocato male eh ma abbiamo segnato al culo eh ma è una vittoria episodica eh ma eh ma dove vogliamo andare in Europa con questo gioco eh ma non vedo schemi eh non vedo eh non si è evoluto eh ma così eh ma colà tutte cazza tutte panzare che vi raccontano ma è normale è normale che non troverai un interista che si lamenta sono primi in classifica l'importante è vincere perché per tutti l'importante è vincere io questa ipocrisia rinuncio alla vittoria ma voglio fare il mio calcio sono tutte cazzate perché voglio vedere andatelo a chiedere a Garzia andatelo a chiedere a Garzia se a Napoli direbbe questo oggi andatelo a chiedere a Garzia eh ma ho perso ma voglio fare il mio calcio a Napoli lo vanno aspettare sotto il portone se dice ho perso ma l'importante è fare il mio calcio provate andatelo a chiedere a Garzia in questo momento il cronista al fine partita è stato un po' ad illustrare i numeri dell'Inter tutte vittorie dalla sosta precedente a questa stare a due punti da questa squadra prima dello scontro diretto onestamente dopo Sassuolo o dopo Bergamo non ci avrei mai creduto se qualcuno mi avessi detto che con questa squadra alla vigilia dello scontro diretto devi stare a due punti poi magari ti vengono a vincere a Torino pigliano in largo e non li prendi più questi se vincono a Torino il campionato è finito perché questi non solo vincono a Torino ma vincono anche a Napoli questi qua però anche se io qualche piccola crepa in questa squadra la vedo qualche punto debole non crepa qualche piccolo punto debole io in questa squadra lo vedo non ce la vedo una squadra imbattibile è una squadra che gioca sull'entusiasmo sono uniti giocano con spirito di squadra con sorriso sulle labbra non vedi mai nessuno con la faccia incazzata di questo incazzata e questo è tanta roba questo sentimento qua e in questi giorni farò molti video su come dobbiamo affrontarli su come dobbiamo affrontarli farò un'analisi tattica farò un'analisi in base a ciò che hanno loro e ciò che abbiamo noi per me la chiave è un ritorno all'antico poi vi spiegherò un ritorno all'antico che poi per me nel calcio non esiste l'antico il moderno esiste il calcio con tante infinite sfaccettature come il calcio è come l'arte come l'arte è infinita è come la fotografia come la pittura ci sono tante variabili per ottenere un risultato bello da vedere o che ti dà soddisfazione sono tanti modi per arrivare all'obiettivo finale i dogmatismi sono sempre sbagliati oggi l'Inter è la dimostrazione non è stata la migliore Inter dell'anno si è visto un gran bel frosinone però è proprio da queste partite che si vede la differenza fa la squadra favorita e le altre è proprio da queste partite perché questi i frosinone hanno giocato molto meglio oggi che per esempio la prima partita col Napoli dove anche lì mi sono intrisi il Napoli una squadra rettamente più forte di loro qui si vede perché purtroppo hanno infinite soluzioni per farti gol hanno infinite soluzioni io non vedo tutte queste triangolazioni questi schemi io vedo un calcio molto semplice nell'Inter di Zag io vedo un calcio molto semplice ma molto efficace perché ha degli interpreti che sanno il fatto loro c'è il miglior Lautaro della sua carriera Turam francamente non me lo ricordavo così forte evidentemente ha trovato una squadra che ne esalta le qualità perché io al Gladbach non lo vedevo così forte Turam lo vedevo un po' come il Haller nella intratta di Francoforte un centravanti molto tecnico non molto prolifico un classico centravanti come se ne vedono tanti Bundesliga però evidentemente ha trovato la sua dimensione nell'Inter Di Marco al momento è un Kostic con il sorriso Di Marco è un Kostic con il sorriso questo è Di Marco mentre Kostic lo vedi sempre con questo muso e tutto il resto Di Marco invece è bello scherzoso fa la mossa quando segna e credetevi questo fa tanto l'empatia in uno spogliatoio fa tanto fa tanto e questa è una squadra con il sorriso sulle labbra non vedi nessuno che si incazza con il compagno vedi il più musone è Tunfries che però sta facendo ora un po' in calo oggi non ha fatto una gran partita Tunfries però fino a un paio di settimane fa era il migliore dell'Inter come rendimento tante soluzioni tante varietà di modi di farti male su cross al centro su sponda tiro da fuori ti fanno male come vogliono perché hanno i giocatori in grado di farsi male senza tanti fronzoli giocano un calcio semplice ma un calcio efficace e che non ha noia perché per tutte queste soluzioni che hanno naturalmente i loro tifosi sono contenti l'avessimo vinta noi così questa partita oggi apriti cielo perché è stata una partita molto simile a Juve Cagliari Inter for Signore solo che noi stiamo lì a farci dei segmentari su Allegri sul gioco sugli schemi sul calcio moderno è ma in Europa è ma in Europa è due palle e questi invece se la godono la strafaccia nostra e vabbè oggi ne abbiamo 12 saranno due settimane lunghissime lunghissime amici miei iscrivetevi al canale